Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere un nuovo aggiornamento nel mio mondo e sotto richiesta un tutorial su come mettere le mod per volare, per rompere tutto in un colpo e altro anche armi nel gioco, per esempio aerei, pistole eccetera, con una semplice mod allora, prima andiamo a vedere come mettere la mod, la mod sarà questo archivio per Minecraft 1.7.2 quindi se non l'avete aggiornato fate l'aggiornamento e questa volta dovrete estrarlo aspettiamo ok, e verrà questa finestra con quest'altra finestra, appunto Minecraft che contiene tutti i salvataggi, non tutti i salvataggi, tutte le varie cose che ha Minecraft e noi cosa dovremmo fare? andare come al solito nella barra start e scrivere qua % up data % fine e adesso io non lo faccio perchè già l'ho fatto, comunque aprite Minecraft salvate per esempio se avete cose importanti, per esempio i salvataggi e da questa parte li trasportate nei save di quest'altra parte oppure le texture pack le trasportate in quest'altra parte vabbè comunque una volta che avete trasportato tutte le vostre cose nella nuova cartella cioè questa e questa cartella la potrete eliminare e sostituirla con questa bene e questo è tutto una volta che avverete il gioco come sto facendo io adesso faccio un attimo bene eeeh si simple player mondo di angel comunque una volta che avrete fatto tutto vi si compare questa schermata così che se premiamo M eeeh cioè se premiamo Z questa schermata scompare ma se premiamo M andremo nelle opzioni che ci fa vedere per esempio eeeh coordinare il display oppure eeeh hide vuol dire fare scomparire invisibile la mini mappa cioè questa e vabbè ci permetterà di editare un paio di cose poi vabbè facciamo exit menu e adesso per intanto usciamo ok siamo nel balcone e per praticamente quando avrete scaricato questa patch avrete tutti i comandi sballati infatti se non riuscite a muovervi è per via che i comandi sono diversi infatti vi muoverete con le freccette direzionali della tastiera quindi dovete premere esc option eeeh controls e qui selezionate cioè selezionate per esempio un bottone forward che sarebbe andare avanti e mettete la w cioè come l'avevate come eravate come siete abituati voi comunque eeeh una volta finito per volare basta premere nel pulsante f come potete vedere qui si attiva scritto flyning e poi per andare avanti cioè per salire premere la e visto come potete vedere saliamo poi per scendere premere la q ecco adesso vi dico anche una cosa e per disattivarlo ovviamente ripremete f eeeh un'altra cosa è che eeeh i comandi per volare oppure per volare non non potranno essere cambiati quindi eeeh ogni volta che voi cercherete di premere l'inventario se una volta premavate e per aprirlo adesso vi consiglio di metterlo nella lettera r perchè è più vicino alla e perchè se voi premete e volerete e non avrete una buona avete una scarsa capacità di usare eeeh bene il gioco comunque poi se premiamo b come potete vedere builder comparirà la scritta possiamo distruggere qualsiasi cosa in un corpo solo ecco vedete lo sto distruggendo in un corpo poi andiamo a vedere ci sono come al solito tre pagine però dando un attimo che prendo questo ok però se andiamo nella terza pagina ci sono veicoli cioè questi aerei poi carrammati mitragliette bombe eeeh fucili questa spada che è strana e vabbè e basta comunque un attimo che è giusto adesso vi faccio vedere un poco come è ristrutturata come è ristrutturata il mondo mi butto la prima cosa che vedremo è che sono questi due lampioni e poi qui come potete vedere sono questo è il mio speciale impianto da antimob praticamente ma anche contro gli animali ecco come potete vedere quando l'animale sale su una piastra si accendono queste cose si sente un suono come adesso solo che non so se voi sentite ma poi vi assicuro che funziona così mi permette che ogni volta che sono in giro e ho attivato la modalità difficile normale o facile mi permette di sapere se ci sono dei mob nelle vicinanze del mio giardino comunque vabbè questa è un'innovazione comunque come potete vedere qui ho disattivato il tunnel sicuro per motivi che adesso vedrete e perché ho modificato le montagne russe e adesso la prima cosa che faremo è andare a vedere le montagne russe io adesso volo per fare anche prima ok all'inizio ovviamente sarà uguale l'altra volta ah è un'altra cosa per chi non lo sapesse per usare bene le ferrovie disattivate prima il trucco di volare se state volando infatti come lì compare in alto a sinistra compare la scritta flying come ho detto prima per disattivare apriamo la F e adesso non c'è più ok perfetto adesso vi faccio vedere le nuove montagne russe ok qui è come al solito uguale però cambia che le rotarie sono quelle potenziate dalla redstone quindi è ricominciata pure da zero bene bene adesso qui cominciano le montagne nuove bene fighissimo anche se non vanno molto veloci però comunque è pure buono ok non è ancora finita guardate da quella parte potrete ammirare un magnifico sembrare di t-rex fighissimo bene sta quasi per finire il giro beh poi voi nel vostro computer giocherete meglio e ok una volta che siamo qua mi butto e all'ultimo secondo attivo la modalità di volare di volo ok bene adesso andiamo a vedere su per la casa questo impianto antimob cioè non è antimob proprio non so perché va affatto comunque praticamente una volta attivata questa leve e queste redstone faranno il loro dovere e faranno sparare a questi oggetti che non mi ricordo il nome e delle frecce guardate una dimostrazione vi do una dimostrazione non so se avete sentito o visto ma tutti ma tutti e quattro lanciano frecce contemporaneamente guardate ecco bene comunque e poi cos'altro ho da farvi vedere ah si in andando in andando ok allora adesso la prossima attrazione sarà un come si chiama e vabbè una cosa di tiro all'arco ecco qua ci sono due piste e qui è la cassa degli archi e qui delle frecce però io adesso ce l'ho già ok per esempio adesso io do una dimostrazione bene perfetto cavolo l'ultima è andata a prendere il giallo comunque probabilmente sto dimenticando qualcosa ah si vabbè questa specie di attrazione che vabbè si sono scontrati l'ultima volta ma lasciamo stare non non è importanza poi sono sicuro che c'è qualcos'altro ma non me lo ricordo boh ah si e lì possiamo trovare questo piccolo scherzetto e non tirare la leva uno si posiziona qui tira la leva e succederà qualche cosa però dovete stare proprio fermi qui in questo buco e poi vedrete cosa succede poi beh qui non so se qui c'è questo c'era pure nella versione precedente non so se ci siete entrati se se ci siete entrati avete fatto male può essere che vi perdete comunque non è importanza comunque non saprei adesso proprio cosa fare volete vedere di nuovo il tir è meglio non so non so sinceramente non so più cosa farci in questo mondo comunque questo è il t-rex ci è voluto circa una mezz'oretta per farlo non è venuto male diciamo anche se è tutto quadrati però si diciamo che non c'è più niente a parte che ho chiuso il tunnel cioè non è che ho chiuso il tunnel sicuro ho preso l'entrata ho chiuso l'entrata per andarci però se voi salite queste scale anche se io non le salgo potrete comunque andare nel rifugio sicuro però non potrete scendere quelle scale e vabbè comunque il link dei file sono in descrizione per questo aggiornamento è tutto commentate votate iscrivetevi alla prossima ciao